Ciao, sono Alessandro Bernardi e voglio invitarvi a due eventi in cui potrete incontrare due grandissimi personaggi di Photoshop. Il primo è questo signore qui e si chiama Dan Margulis. Se non lo conoscete, Dan Margulis è considerato il massimo esperto mondiale sulla correzione del colore. Il 17 maggio a Bologna terremo insieme un seminario interamente dedicato alla correzione del colore intitolato Dan Margulis Day, dove parleremo di argomenti molto interessanti per chiunque si occupi di immagine digitale. Margulis inizierà con una sessione sul metodo Lab, di cui è il massimo esperto. Se non sapete che cos'è il Lab, allora voglio mostrarvi qualche piccolo esempio. Riuscireste a cambiare il colore di queste sfere in 4 secondi? Così, 1, 2, 3 e 4. Oppure, riuscireste a differenziare i colori di un'immagine come questa? Solo con una curva, da così a così? Veloce, vero? Solo il metodo Lab vi offre queste possibilità. Durante la giornata vedremo poi insieme anche come portare ai massimi livelli il contrasto, il dettaglio e la nitidezza di immagini come questa. Questa è l'originale e questa è la versione corretta. Oppure anche di soggetti più delicati, come i beauty, da così a così. Infine, Margulis terrà una sessione intitolata Non esistono pessimi originali, in cui ci mostrerà come recuperare le immagini più problematiche come questa o questa. Tra tutti i partecipanti della giornata verrà estratta una licenza omaggio di Photoshop Extended che sarà consegnata da Margulis in persona al vincitore. Il giorno dopo invece, il 18 maggio, sempre a Bologna, potrete incontrare un altro grandissimo personaggio che è questo signore qui, che si chiama Bert Monroy. Se non lo conoscete, Bert Monroy è un vero e proprio mostro sacro di Photoshop che realizza opere come questa, o questa, o anche questa. Non vi sembra eccezionale? Ok, diamo uno sguardo più da vicino. Guardate bene. Sembra una foto, vero? Ok, ma è un'illustrazione interamente creata in Photoshop e in Illustrator. Il 18 maggio, quindi, sempre a Bologna, Bert Monroy sarà per la prima volta in Italia in un seminario interamente dedicato al fotoritocco, al fotomontaggio, in cui ci mostrerà le tecniche con cui realizza proprio queste immagini, usando anche alcune nuove caratteristiche di Photoshop CS5. Il seminario si intitola Bert Monroy's Day. Ora, io non credo che ognuno di noi realizzi dei quadri digitali come quelli che fa Bert Monroy, ma quello che è importante è che le sue tecniche sono utilissime per chiunque si occupi di fotoritocco o di elaborazione dell'immagine. In più, al Bert Monroy's Day ci sarà anche Tiziano Fruet, uno dei più brillanti istruttori di Photoshop che abbiamo in Italia, che ci mostrerà proprio come usare le tecniche di Monroy nel nostro lavoro quotidiano. E, fra tutti i partecipanti, questa volta verrà estratta addirittura una licenza omaggio di una Adobe Creative Suite Design Premium CS5 e una tavoletta grafica Wacom, che saranno consegnate da Bert Monroy in persona al vincitore. In più, il 17 maggio sera, cioè fra i due eventi, ci sarà una cena aperta a tutti i partecipanti dei due seminari in cui potrete incontrare da vicino Dan Margulis e Bert Monroy. Margulis e Monroy poi, dopo qualche giorno, si trasferiranno in Toscana, dove terranno delle classi pratiche di tre giorni ognuna, in cui potrete imparare le loro tecniche e mettendole subito in pratica direttamente sotto la loro supervisione. Le classi si svolgeranno dal 21 al 29 maggio in un agriturismo a Reggello, vicino Firenze, e sono limitate al massimo a otto allievi, dove ognuno però avrà a disposizione anche un computer per delle esercitazioni pratiche. Queste classi sono, a detta di molti, il migliore investimento che possiate fare per migliorare la vostra preparazione in Photoshop e in più sono delle occasioni che non capitano proprio tutti i giorni. Vi ricordo quindi il 17 maggio il Dan Margulis Day, il 18 maggio il Bert Monroy's Day seminari a Bologna e il 17 sera la cena con Margulis e Monroy. E poi, per chi vuole imparare in concreto le loro tecniche, le classi pratiche Applied Color Theory in Photoshop con Dan Margulis e l'immagine, oltre la fotografia, con Bert Monroy. Vi ricordo che non rimane molto tempo, ci sono rimasti circa 10 giorni per questi eventi da non perdere e che i posti sono limitati. Grazie per l'attenzione e a presto. Ciao! Ciao!